Dopo una lunga estate tra Sardegna, Ibiza e Monte Carlo Nathan Falco è tornato a scuola. Ieri è stato il primo giorno di ritorno sui banchi per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Il tredicenne, che in queste ultime settimane di vacanza ha trascorso alcuni giorni con la sorella, Lenny Klum, e il padre è stato accompagnato da Elisabetta in uno dei migliori istituti europei per la formazione degli studenti tra i 3 e i 18 anni. Il primo giorno di scuola è sempre un momento speciale, dal sapore dolce amaro perché la gioia è accompagnata dalla consapevolezza che gli anni passano e i bimbi crescono. Buon un giorno di scuola amore mio, in bocca al lupo per il tuo nuovo anno scolastico, ha scritto Elisabetta e poi qualche ora dopo ha condiviso un'altra foto, in cui Nathan l'ha sollevata da terra sorridente e il mio piccolo grande uomo è il commento che ha scritto per descrivere quel dolce gesto. Nathan Falco che vive a Monte Carlo insieme ai genitori, che si sono separati nel 2017 ma che continuano ad essere molto legati, frequenta The International School of Monaco. La retta va dai 10.000 ai 30.000 euro l'anno e accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. Il secondo genito di Briatore dovrebbe frequentare la prestigiosa scuola un altro paio d'anni, prima di andare a studiare in un collegio in Svizzera. Questo, almeno, è il desiderio del papà, che sogna di lasciargli appena possibile le sue imprese. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.